Ciao, buongiorno a tutti, sono Paolo Nardini, il CTO di WeBravo, bravosconto.it e ho partecipato al CTO Show con Alex, è stata veramente una bella esperienza, una piacevolissima chiacchierata e abbiamo toccato veramente tanti argomenti partendo dal molto lontano, molto molto lontano del tempo fino ad arrivare ai giorni nostri. È un'ottima iniziativa, secondo me in questi show, in questi incontri con vari CTO la parte veramente interessante è la varietà di esperienze che si possono incontrare e soprattutto di consigli che si possono carpire dall'esperienza al tuo e quindi consiglio a tutti quanti veramente di seguire questa serie della quale sono molto onorato di aver partecipato. Grazie a tutti.